bentornati su my football jersey oggi vediamo la prima maglia del manchester city per la stagione 23 24 la nuova che avevamo già visto in versione player trovate qui in alto la recensione questa volta in versione fan e la maglia dei freschi campioni d'europa non può mancare nella mia classifica questa prende 4 stelle stupenda bellissima in tutti i dettagli una maglia che vi consiglio il costo lo vedete qui sopra se vi consiglio la maglia normalmente a un costo del genere è imperdibile in descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia soprattutto trovate un link per ottenere un coupon da 3 dollari quindi voglio dire ancora più conveniente prima di lasciarvi la parte finale lasciateci un grande like ma soprattutto iscrivetevi al canale a voi non costa niente ma ci permette di avere sempre nuove recensioni per oggi è tutto alla prossima io sono alto un metro e 75 e peso 70 chili circa quella che vedete è una taglia media della versione fan ciao